E dove avversari alle vastiere? Ai tuoi no! La nostra sezione arti, il professore Claudio Bruciaperi al genitino, anto della luta, la viola. La nostra sezione arti, il professore Claudio Bruciaperi al genitino, anto della luta, la viola. La nostra sezione arti, il professore Claudio Bruciaperi al genitino, anto della luta. La nostra sezione arti, il professore Claudio Bruciaperi al genitino, anto della luta, la viola. La nostra sezione arti, il professore Claudio Bruciaperi al genitino, anto della luta, la viola. La nostra sezione arti, il professore Claudio Bruciaperi al genitino, anto della luta, la viola. Il primo aprile della storia di Romagna